non sento pex da secoli pare che abbia avuto un ascolta mistica penso che la console del nostro radar tutto ok ragazzi, vedete qualcosa? niente! e anche qui? qui neppure ok, non addormentatevi, è qui in giro i sensori del drone sono momentaneamente disattivati ma posso violarne uno alla volta quello precedente tornerà operativo non da segnale il drone niente, tutti i settori sono liberi è come svanito ma è impossibile bersaglio perso, guardersi a cercarlo il nostro controller di droni non risponde verifichiamo Batman è ancora qui è andato di qua è qua, da questa parte è da questa parte, porta il drone non lo schifo, è tutto lo schifo che cosa è successo? cosa è andato a start? verifichiamo Grazie a tutti. Sì, sì, sì. È un cavaliere di Arkham. È un tipo piuttosto bellicoso. Ha chiesto di parlare direttamente con lei su un canale aperto. Allora dagli ciò che chiede. Molto bene. Che piacere, è passato tanto tempo. Slade. Nome in codice Destroke e sto lavorando. Ora mi ricordo che mi dicesti che io non ti preoccupavo, ma il nostro comune amico, il cavaliere, ha un'altra versione. Mi ha cercato. Ha detto che sono l'avversario più temibile che tu avessi affrontato. Il cavaliere non c'è più. Sei un mercenario disoccupato. Non esattamente. Sono stato pagato in anticipo per questo. Perciò è un obbligo professionale finire il lavoro. C'è un posto di blocco della milizia vicino alla torre dell'orologio. Non per molto. Ci sono ancora degli uomini bloccati là dentro. Dobbiamo lasciarli lì e basta. Non è così che lavoro io. Compi tutti i gesti eroici che vuoi, cavaliere o scuolo. La tua colpa non può essere cancellata. Ma quanti blindati ha distrutto? Credevo che l'avessimo in pugno. Ho trovato una statuetta con un punto interrogativo bello. Mi son detto un souvenir di Gotham. Ma quella schifezza mi ha folgorato non appena l'ho toccata. Che gli è successo? Il gas te l'ho spaventatassero. Alcune persone non si riprendono. Mai. Era uno dei nostri. L'abbiamo trovato noi. Metti fine alle sue sofferenze. Attenzione! È Dasman! Carmi ci fanno! Ciao, Valor! Sono qui! Non vanno! Non vanno, ragazzi! Contrasta questa, idiota! Forza, prendetelo! Scondetelo, circondetelo! Facciamolo! No! E sbucca la sola! Piccchiatelo! Ti va una scossa, Batman! Addosso, ragazzi! Put! Ammalate! Forza, prendetelo! Non è la nostra attesa! Facciamolo! No! Facciamolo! Fatelo, spacci! Piccchiadelo! Ecchiadelo! Alla prossima! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vedo, Batman. Quegli uomini ti stanno spinendo. Io non devo che aspettare. Cosa farai adesso, Batman? Oh, 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 oh. Grazie a tutti